Buonasera, sono Sandra Gomez e mi avrete visto sicuramente al fianco di Bonolis nella simpaticissima trasmissione di avanti un altro. Volevo annunciarvi che sono lieta di partecipare al film Il caso Ferri con Arte e Cinema e Cinema Art Academy. Dimenticavo che volevo fare un saluto a tutti gli amici di Caffè TV 24. A presto!